Ciao ragazzi, eccoci ritrovati. Nell'attesa di proseguire con la seconda parte del video dedicato alla creazione del sito internet di SpaceX, ho voluto continuare su questa onda, non portando però un altro sito web da ricreare, bensì invece ricreando un sito internet completamente nostro. Ora, cosa voglio fare in questo video? Voglio partire da una situazione completamente pulita. Quindi realizzare prima un progetto e poi in seguito andare appunto a svilupparlo in HTML, realizzando quindi una pagina web. E la cosa divertente è che non avremo alcun limite, in quanto qualunque cosa andremo a realizzare a livello grafico sarà ricreabile anche a codice. Quindi come si sviluppa il video? Per prima cosa utilizzeremo Adobe Photoshop, uno dei migliori programmi di fotoritocco fornito appunto da Adobe. Non è essenziale utilizzare Adobe Photoshop, io utilizzerò questo programma in quanto mi trovo molto bene. Potresti per assurdo anche prendere un foglio di carta, una penna e abbozzare il tuo sito web, che ovviamente poi ricreeremo grazie ad HTML. Quindi una volta che avremo creato il design, quindi l'aspetto che vorremmo dare alla nostra paginetta web, a quel punto andremo poi a ricrearla a codice, sfruttando ovviamente HTML e CSS. Premessa, se non avessi mai sentito parlare di questi due codici, ti lascio il link in descrizione del corso dedicato ad HTML e CSS, dove imparerai le basi per diventare web designer fino alla realizzazione di un intero sito internet, ovviamente sviluppato a codice. Direi di non perdere troppo tempo e entrare nel vivo di questo video. Prima di iniziare però, come al solito, mi presento. Il mio nome è Edoardo Rinaldi e da circa due anni sto condividendo all'interno delle mie piattaforme social le mie competenze, al fine ovviamente di creare una community di persone attive con le quali scambiare pareri e consigli e ovviamente imparare a mia volta. Bene, direi di non dilungarci troppo e come al solito entriamo nel vivo di questo video. Ovviamente, come ho detto in introduzione di questo video, utilizzerò Adobe Photoshop per andare appunto a creare il template, quindi il progetto del nostro sito web o comunque della nostra paginetta web che realizzeremo in questo video. Logicamente non è essenziale utilizzare, in questo caso io utilizzo Adobe Photoshop, ma non è essenziale utilizzare un programma professionale. Però è molto importante e essenziale sì, creare un progetto prima di sviluppare la codice, anche solo avere un'idea a grandi linee per riuscire appunto a andare poi a ricreare la codice in maniera quanto più rapida e chiara. Quindi cosa facciamo? Per prima cosa io parto, aprendo un nuovo file, vado già a dare una misura che può essere quella di 1024, in linea un po' con lo standard web e do un'altezza di, non so, 2000 pixel, risoluzione 72, va benissimo. Ok, ora cosa vado a fare? Vado appunto a creare quelle che possono essere le sezioni del sito web. La prima cosa andrò magari a scegliere una bella immagine, vado su Pixabay, che è un sito per scaricare immagini gratuite, e facciamo finta che questo sito sia un sito di viaggi. Quindi andiamo magari a prendere una foto di, non so, travel. Ok, vediamo, 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 ipotizziamo di voler mettere questa qua, mi piace, da un pochino più, diciamo, siti. Ok, la scarichiamo, andiamo a selezionare le barchette, come sempre, e download. Ora la vado a mettere all'interno del mio documento e vado a mettere praticamente, la vado a mettere a pieno schermo, ipotizzando appunto di avere un'introduzione di questo tipo, quindi immagine fissa, rispondo. Poi, 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 andiamo a visualizzare i livelli, ok. Andiamo a mettere il menu qui sopra, quindi prendo lo strumento, lo strumento testo, e vado a scrivere home, magari lo vado a mettere in bianco, io lo faccio un pochino più grande, e magari vado a prendere anche un font che a me piace tanto, il lato, regola, fine, 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 e basta, quindi vado a creare home, poi, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, chi siamo, e così via. Servizi, contatti, perfetto, giusto per avere uno dell'idea. Lo vado a mettere qua, in alto, a destra, bello, chiaro. Poi, qua vado a mettere un logo, ora, ipotizziamo, creiamo un qualcosa di rapido, facciamo finta che il nostro logo sia... Facciamo un po' di trasparenza... Facciamo questo qua, il nostro bellissimo logo, anche bello, realizzato proprio rapido rapido, e questo qui è il nostro logo bellissimo, magari mi abbasso un po' anche qua, e perfetto, ok, ci siamo, logo e menu. Dopodiché andiamo magari a mettere uno slogan qui di sfondo, quindi come se fosse un po' il titolo, e lo chiamiamo, non so, ma più che viaggio, qua magari facciamo finta che sia un sito di un'azienda, una multinazionale, con tutti questi grattacieli, quindi mettiamo, non so, lavoriamo al fianco delle aziende, proprio giusto per avere un'introduzione, ok, bellissimo. Ora, logicamente, qua magari posso alzarmi un po', oppure posso anche andare un po' a ritagliare questa foto, creando, va bene, in realtà anche no, cioè posso fare così, lavoriamo, diciamo così, da 30 anni, al fianco delle aziende, bene, 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 bene. Qui magari cosa faccio? Vado a creare un livello, ok, con una leggera ombretta, ok, poi mi piace sempre provare un po' i dettagli, quindi vado a creare un'ombretta, in maniera da, non so dire se può, metterla qua sotto, sfumarla un pochino, ma rendere, diciamo, la lettura un attimino più, più chiara, perfetto. Qui, logicamente, posso anche andare a farle più piccola, questa parte, quindi, diciamo così, la vado a mascherare un attimo, così che questa qui, adesso riesco a mascherare, la maschera di dettaglio, perfetto, e anche questa la mascherò, in maniera che questo qui detterà, diciamo questo triangolo, questo quadrato, scusate, detterà la grandezza della mia maschera, perfetto. Ok, dopodiché, questo quadrato è bianco, ok, ora è bello bianco, ok, dopodiché scendiamo e ipotizziamo di andare a mettere, appunto, una sezione testuale, e quindi vado a prendere un bellissimo lorem ipsum, testo finito, dove vado a mettere, dove vado a mettere un pochino di testo, per riempire, giusto per uno scriverlo, diciamo, mano, che non ha senso in questo caso, ok, continuo a destra, ingrandisco un po', e anche le proprietà della grandezza, le vado a fare un pochino più a tempo, perfetto, ok, facciamo vedere le tre paragrafi, ottimo, poi di qua invece potremmo di avere un'immagine, quindi facciamo così, e vado a crearmi un box, nel quale poi andrò a mettere all'interno un'altra immagine, quindi andiamo ancora qui, e scegliamo un'immagine che può essere, vediamo, Busines, scegliamo delle immagini di business, una roba tipo, tipo questa qua, anzi, sì, ci piace questa qui, scarichiamo, scarichiamo, ma sono un robot, e ancora una volta, chiamiamolo le palme, perfetto, prendo la mia della palmettina, la metto qui, e creo una bella maschera di taglio, ok, logicamente, adesso sto facendo le cose abbastanza precise, perché più siamo precisi, nella fase di creazione del progetto, e più sarà semplice poi, andarlo a sviluppare a codice, quindi questa parte qui è molto importante, io non riuscirei mai a mettermi a realizzare un sito internet, senza ovviamente aver prima studiato i contenuti, e studiato ovviamente la struttura, è molto comodo, lo so, sembra che si perda un sacco di tempo, ma in realtà, non si ottimizza, perché si ha modo di modificare in maniera rapida, tutti i contenuti, in maniera appunto, rapida di progetto, dopodiché una volta che abbiamo individuato tutti i punti, e costruito un design definitivo, allora a quel punto decideremo di svilupparlo, e seguiremo solamente la grafica che abbiamo già realizzato, quindi tutto risulterà molto più facile, e più rapido soprattutto, quindi qua mettiamo, non so, titolo, adesso non mi concentro sul contenuto, altrimenti è più il tempo che penserò al contenuto, però è giusto per creare qualcosa di... personalizzato e su misura, e dopodiché io qui vado a fare un copy and colla di questi contenuti, e magari andrò a invertirli, ok, così, in maniera da variare un atteguino, qui vado anche a cambiare la foto, prendiamo questa qui, che magari scarico in questo modo, questo giro, perfetto, e la vado a mascherare, ottimo vado qua, perfetto, titolo, titolo, e infine vado a chiudere il mio sito web, con una parte di flutter, quindi di piedi pagina, che farò di colore, magari anche qui vado a prendere un colorino, così, un bluett, perfetto, e vado a chiudere la mia pagina, la mia pagina di sito web, ok, quindi qui vado a fare una parte di, se riesco a metterla qua sopra, di chiusura, dove vado a mettere, non lo so, 340-19-21-277, vado a mettere un numero di telefono, che in realtà, vabbè, questo qui è proprio il mio numero di telefono, quindi, non sto stalkerizzando nessuno, anzi, sto portando pubblicità, acqua al mio mulino, dopo di che vado a mettere un indirizzo email, che in questo caso, utilizzerò ancora il mio, me ne chiocciola, edoardorinaldi.com, perfetto, così che almeno, mi potete contattare quando volete, in maniera rapida, ok, ipotizziamo quindi di andare a realizzare, un sito web, quindi una pagina web, con queste caratteristiche, ora, come ho detto poco fa, è molto comodo ed essenziale, avere un'impaginazione di partenza, perché ora che abbiamo una pagina, sulla quale lavorare, sarà molto più semplice andare a lavorare a codice, come visto in questo caso, non abbiamo avuto troppe limitazioni, per niente, quindi ho potuto realizzare qualunque cosa, ho potuto fare cerchi, qualunque cosa, e in questo caso, anzi, devo andare a fare un cerchio, qui, facciamo così, così da andare ancora un pochino più di, ehm, come si dice, di diversità, nella nostra pagina, faccio un bel cerchio, magari un pochino grande, perfetto, e in questo caso, vado a mascherare la mia immagina, l'interno del cerchio, ok, perché questo è molto importante, nel senso che, quello che voglio dare in questo video, e quello che voglio passare, è il fatto che, se realizziamo un progetto, diciamo, in maniera preliminare, possiamo appunto andare a realizzare qualunque roba, in fase successiva, senza aver comunque alcun limite, quindi sia che noi realizziamo cerchi, quadrati, triangoli, qualunque roba, potremo andarlo poi a recuperare, o meglio, a replicare, a codice, sviluppando, grazie ad HTML, CSS, bene, ora questa prima fase l'abbiamo realizzata, abbiamo creato una parte di header, quindi di intestazione, un logo, un menu, un payoff, quindi un titolo principale, magari andiamo a mettere anche, qua, una piccola, giusto per dare un tocco in più, una piccola freccettina, così che daremo anche un, un effettino con jQuery, quindi al click, andiamo, se riesco a strappolare, al click faremo in modo, che la nostra pagina, scorrerà in maniera automatica, ok, sul basso, poi lo vedremo, e voilà, perfetto, perfetto, dopodiché abbiamo fatto il contenuto, fittizio, e infine, la parte di piedi pagina, il cosiddetto footer, bene, passiamo ora alla parte di codice, teniamo aperta, la nostra demo, da una parte, e dall'altra parte apriamo il codice, così che potremo replicare, tutto quanto fatto fino adesso, passiamo quindi al code editor, io come sapete, utilizzo sublime text, ovviamente ritienete libero di utilizzare qualunque code editor, preferisci, logicamente html, rimane lo stesso, allora apriamo un nuovo documento html, perfetto, diamogli un titolo, all'interno del tag title, lo chiamiamo, non so, del sito web, ad hoc, appunto, in maniera da essere allineati, lo salviamo come index.html, e creiamo anche una cartellina, perfetto, una volta creata la cartellina, ci buttiamo all'interno del nostro file index.html, e la rinominiamo, sito web, ad hoc, ok, perfetto, ecco, logicamente attenzione, perché una volta aver inserito il file all'interno della cartellina, dobbiamo anche assicurarci che questo, cioè, avendo aperto il file prima, e avendolo salvato sulla scrivania, adesso, quando siamo andati a spostarlo all'interno del sito web ad hoc, ti consiglio di chiudere, ok, e di riaprire il file attraverso questa cartellina, quindi tasto destro, apri con il tuo code editore, in questo modo ora, tutto quello che andremo a modificare, sarà fatto sul file giusto, quindi quello che è presente all'interno della cartelletta, che conterrà tutti i file del sito internet, a questo punto, appunto tal proposito, creiamo anche una cartelletta, chiamata images, che sarà la cartelletta che conterrà tutte le immagini del nostro sito, della nostra pagina web, in maniera da non avere mille file in giro per l'unica cartelletta, ma andare perlomeno a ottimizzare lo spazio, e l'organizzazione, quindi una volta fatto questo, andiamo all'interno del body, e andiamo a creare le macro aree, quindi la sezione head, header, diciamo, la parte in alto, la sezione body, e la sezione, cioè body, la sezione main, e la sezione footer, cosa facciamo? Creiamo tre div, quindi il primo div gli diamo un id, le chiamiamo header, quindi testata, la testata in alto, poi la sezione central la chiamiamo main, e la sezione di chiusura, la chiamiamo appunto footer, ok, dopodiché andiamo a creare lo stile, che adesso per comodità lo andrò a mettere qui dentro, ma logicamente si può andare anche a creare un file CSS esterno, e vado appunto a dare a identificare delle proprietà appunto per ogni mio evento, quindi header andrò a dire di essere al 100%, grande, non so, supponiamo 1000 pixel, perfetto, e magari diamogli già alcun colore, giusto per darci già perlomeno il via, dopo lo andremo a sostituire con l'immagine, quindi header, poi facciamo main, main e footer, allora al main diamo uno spazio un pochino più grande, diamogli 2000 e il footer gli diamo 500, qua logicamente l'ho fatto cambiare il colore, e in maniera da avere perlomeno un'idea visiva di quello che è, di quello che sono queste tre macro categorie, diciamo tre macro blocchi, che magari lo facciamo un pochino più piccolo, e vediamo quello che succede, quindi, vado a aprire index.html con, il browser, perfetto, ricarico la pagina, e quello che vedo è, che i div sono molto grandi, quindi, magari a posto di dare 1000, vado a dare 200, ok, magari facciamo 600, perfetto, anche di maniera da 400, ok, qua vado a dare un 800, e qua un 200, quindi abbiamo la sezione header, la sezione main, e la sezione footer, logicamente qua abbiamo sempre, questo, diciamo, errorino, barra, predisposizione del body, che ci dà questo, bordino, cosa facciamo? una buona cosa all'interno dello style, quindi all'interno della parte, dove appunto sarà assegnato il codice, ecco premessa, se tu non stessi capendo, quello che sto scrivendo in questo momento, ti consiglio di andare a vederti, le playlist iniziali di HTML e CSS, in maniera da poter capire esattamente ogni voce, altrimenti se comunque vuoi continuare, ripeti esattamente quello che sto scrivendo, in maniera da capire meglio quello che succede, e per ogni stringa di codice che scriverai, potrai anche capirne il senso, logicamente, quindi io qui vado a togliere questo margine bianco, e vado a dare praticamente un margine 0, quindi il body, che è il mio contenitore principale, non avrà margine, perciò i miei 3 div, header, main e footer, andranno a posizionarsi esattamente, al 100%. Bene, primo punto l'abbiamo superato. Dopodiché proseguiamo, come facciamo ad andare a mettere questa immagine di sfondo? Allora, basterà andare a prendere la nostra bella immaginetta, ok, che non è questa, ma è questa qui, ok, io per comodità andrò ad unire i miei 3 livelli, perfetto, la vado a salvare, e la vado a salvare ovviamente all'interno della cartelletta, quindi, jpeg, alzo un pochino la qualità, che tanto, non è neanche gigantesca, e la salvo all'interno di images, con un nome magari che la chiamerò, non so, appunto, header.jpg, perfetto, salvo. Ora, logicamente, avendo, avendo la nostra immaginetta all'interno del cartello images, potrò andare a richiamarla, quindi cosa faccio? Vado in header, apposto di dargli il background color, gli darò il background image, in background image, url, vado all'interno di images, e do esattamente il nome, quindi header.jpg, background position center, poi background repeat no, e background size cover, così va a prendere tutta la grandezza della pagina, vediamo se funziona, eccola qua, perfetto, funziona. Ora, logicamente, come vediamo, qua c'è bisogno di ingrandire un pochino, quindi vado, tramite l'ispezione elemento, vediamo se riesco a distrapparlo, ok, vado ad ingrandire un pochino la mia paginetta, o meglio il mio head, andandolo a portare a 5,50, dai, un attimino più carino, quindi, 5,50, poi, logicamente, in base alla dimensione dello schermo, tu potresti avere uno schermo più grande, quindi potresti avere un'immagine di questo tipo, vai un attimino a riadattare la grandezza, sul basso un po' della tua misura, della misura con la quale lo stai guardando, in questo video non entriamo nel dettaglio del responsive design, quindi non andremo ad ottimizzare la pagina per tutti i dispositivi mobile, altrimenti diventerà abbastanza lungo il video, però, all'interno del mio canale, trovi anche il video dedicato alla responsive, quindi al mobile optimization dei siti internet, quindi delle pagine web, perciò ti consiglio di fare un giro. Dopodiché procediamo spediti, andiamo a mettere all'interno del header il menu e il logo, quindi prima di tutto andiamo a mettere id logo, quindi un div che lo chiamiamo logo, e un altro div chiamato menu. All'interno di logo andrò a mettere l'immaginetta del logo, quindi png search images logo.png, che ora andiamo a salvare. Mentre all'interno del menu andremo a mettere una lista, ok, ul, lì, dove andrò appunto a inserire il menu, che in questo caso non andremo a collegare, ma però ci interessa capire come appunto stilizzarlo. Ti ripresenta che grazie a CSS possiamo andare a modificare qualunque parte, rendendola proprio come la vogliamo, quindi rendendola in linea con la bozza iniziale. Ora infatti se noi ricarichiamo la pagina vedremo una roba stranissima, perché appunto non ha stile, ma l'impostazione di HTML è corretta, quindi è giusto che abbiamo il logo così e il menu in questo modo. Ora però grazie a CSS andremo a stilizzare questi due elementi, portandoli esattamente come appunto l'abbiamo pensata a livello di progettazione, quindi a livello di progetto, quindi a livello di demo iniziale. Allora il logo, non ci resta che diciamo copiare e salvare l'immaginetta del logo, ovviamente in versione png, in maniera da non avere nessuno sfondo, quindi png, logo.png e vediamo se funziona. Eccolo qua, perfetto. Mentre il menu, mentre il menu andiamo praticamente a stilizzarlo in questo modo. Allora, innanzitutto andiamo a dire a menu, di avere, facciamolo sempre con l'ispezione d'elemento, prima o poi andiamo a fissarlo con il codice appunto vero e proprio. Andiamo a dire che deve avere una grandezza di, non so, 80%, altezza 100 pixel. Perfetto. Poi andiamo a dargli un position absolute, top 0, right 0, text align, text align, right, così che il testo va appunto a posizionarsi a destra. E questo è un primo passo e io vado a fissarlo qui dentro, quindi vado a dire menu, hai queste proprietà. Ok. Perfetto. Dopodiché andiamo a dire menu, UL li, quindi le liste, le li, queste qui che sono all'interno di UL e che sono all'interno di menu, quindi in questo caso vado a richiamarle, devono avere queste caratteristiche. Quindi andiamo qui e diciamo, anzi, facciamo così, andiamo qui, è giusto, così almeno lui riconosce che c'è una regola che le identifica. Salviamo, ricarichiamo e ora in questo caso posso agire qui agendo su tutte le liste. Quindi vado a dire di essere bianche, perfetto, vado a dire di non avere nessun cerchietto e vi dico con questa regola liste style type, altrimenti ci sarebbe questo cerchietto. Dopodiché vado a dire float left, anzi float, no, facciamo così, display in line, block, perfetto, margin 0, sopra e sotto, mentre 50, destra e sinistra, perfetto, perfetto, perfetto. Ah, logicamente devo dare un font family, che, font family, che posso identificare con un elvetica, anzi facciamo così, font family lo andiamo a dire grazie al google font, è così da dare esattamente il font che avevo pensato a livello di progettazione, che era il lato, se non ho sbaglio, esatto, il lato. Cosa facciamo? Andiamo su google font, lato, perfetto, questo, diciamo, font che ho usato è un font messo a disposizione da google, google praticamente, da disposizione degli sviluppatori, font gratuiti, e grazie a google font, dove appunto si possono andare a filtrare per preferenza i font, e si possono incorporare all'interno dei documenti web, in questo caso io appunto voglio il lato, quindi cercherò il lato, perché appunto è un font che mi piace molto, e vado appunto a selezionare anche la grandezza, quindi il menu e i testi li faccio in maniera, diciamo, li faccio un pochino piccolini, ora il 100 forse è un po' troppo piccolo, ma il light 300 ci può stare, quindi select this style. Dopodiché vado a prendere un font un pochino più grossettino, un pochino più cicciotto, tipo il bold 700, che userò per i titoli. Perfetto, una volta selezionati, vediamo qua, ok, lato, tra l'altro facciamo a bombarlo, perché non mi interessa, non l'avevo già dentro, ok, quindi lato, ho selezionato il 300 e il 700, cosa faccio? Vado a copiare questa stringhetta di codice, tasto destro copia, e la vado a incollare dove? All'interno del head, quindi, vedi che mi viene detto è embed, quindi vai a incorporare questo font, praticamente copiando la riga di codice all'interno del head, perciò vado all'interno del head, che va da qua a qua, magari vado qua sopra, prima dello style, e incollo questa regola. dopo di che, grazie al font family, lato, potrò andare a richiamarlo ovunque, quindi io adesso posso andare a dire alle liste di essere font family, lato, vediamo se funziona, ok, tasto destro, font family, lato, perfetto, proseguiamo, text, transform, uppercase, così bello grande, e diamogli anche una grandezza di, non so, 25, no, ma 21, e a questo punto rimpiccioliamo un po', rimpiccioliamo un po' la grandezza, perfetto, ci piace. Ah, un'altra cosa, font weight, che è praticamente lo spessore, abbiamo detto 300, potremmo dare anche 700, però vabbè, stiamo un pochino schisci, così da avere comunque una bella divisione tra titolo e menu, comunque paragrafi, e lo teniamo di 300, ora è tutto pronto, ricopio e rincolo le mie regole, e salvando vado a fissare tutto, perciò ricarico la pagina e voilà, è tutto bello che è pronto. Ora come abbiamo visto però dalla nostra bella demo, sia il logo sia il menu hanno comunque degli spazi rispetto al bordo, perciò non ci resta far altro che andare a logo, ok, dare, inizio tutto un posizionamento, anche lui deve essere absolute, ok, top a questo punto diamo un 30 pixel e anche un left di 30 pixel, magari addirittura di 20, ok, 25, così, otticamente è un attimino più carino. Poi, 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 quindi, vado a dare a logo questi stili, perfetto. Dopodiché, vado all'interno appunto di menu e vado a dare appunto anche al menu non diciamo un bordo, al margine vado a dare un 40 e ci piace così, basta, tanto comunque qui anche se è abbastanza vicino, un po' come in questa, diciamo che otticamente mi soddisfa, perciò vado su menu e vado a cambiare il valore top portandolo a 40 pixel. Ricarichiamo la pagina e voilà, è già praticamente più, diciamo, riconoscibile rispetto a prima. Perfetto. Ora cosa facciamo? Andiamo a mettere il payoff, quindi questa parte qua di titolo. Andiamo all'interno di head e andiamo a dare un bel h1 che è il titolo principale del documento e lo andiamo appunto ad identificare. scriviamo sul termine lo slogan o meglio il titolo che è lavoriamo da 30 anni per il capo al fianco delle aziende. Perfetto. Ora cosa facciamo? In automatico ci viene messo in alto a destra anche qui il tasto destro ispeziona e facciamo praticamente un'anteprima del nostro titolo perciò margin zero così va a togliere questo bordo che in automatico aveva. anche lui vado a dire che è un position absolute bottom zero pixel attenzione perché io ora lo volevo mettere al bottom di questa sezione e per metterlo al bottom di questa sezione devo dire appunto questa sezione di essere position relative così facendo lui lei questa sezione comanda e tutto ciò che all'interno sarà in posizione absolute come in questo caso l'h1 andrà a mettersi al bottom quindi in basso a cosa? non al documento intero come prima ma bensì al primo div relative che troverà quindi in questo caso il primo div relative che trova è il header e perciò va a mettersi al bottom di header se questo div non fosse header lui andrebbe a mettersi al bottom di quella che riconosce essere l'altezza al momento del caricamento della pagina perciò lasciamo relative dopo dopo di che andiamo anche qui a dare uno stile perciò vado a dire all'h1 di essere lato coloro ovviamente bianco se no non viene letto e transform uppercase ovviamente text align center e una grandezza del 100% così da averlo comunque da destra a sinistra dopo di che lo alziamo un pochino in maniera da non averlo attaccato ma un pochino diciamo alzato come in questo caso perciò andiamo alzarlo 234 577 10 tocciamo 100 pixel font size e ingrandiamolo un pochino facciamolo di 40 perfetto mentre l'interlinea norman ok oppure 1 un attimino più ravvicinato ottimo quindi abbiamo dato lo stile anche all'h1 prendiamo qua e creiamo l'h1 quindi il nostro titolo principale perfetto ricarichiamo e voilà no, voilà no perché devo dire a ts position relative e così facendo ora eccolo qua tutto sembra funzionare e inizia a prendere diciamo un'assembianza molto molto familiare a quella che avevamo appunto creato in fase di partenza, in fase di progetto perciò continuiamo e passiamo allo sviluppo della parte centrale della nostra pagina web, ovvero dalla parte main torniamo quindi al nostro code editor e passiamo quindi alla modifica della parte main quindi la parte centrale allora, cosa facciamo? per prima cosa dobbiamo appunto andare a creare un po' di spazio qui dentro logicamente e dobbiamo andare a creare la prima sezione che sarà appunto la section 1 è buona cosa andare appunto a delineare questo primo parte in maniera da avere la sezione 1 e la sezione 2 ben divise perciò, va beh, partiamo div mettiamo anche qui diamo 2id per essere sicuri e facciamo section 1 ok e all'interno una section 2 poi andiamo a dire appunto via CSS di allora, di essere alla section 1 grande il 100% della pagina logicamente e un'altezza magari poi dopo diremo di essere auto anzi, magari diciamo già auto così almeno andiamo a dare l'altezza interna e background color 0 e entriamo all'interno in maniera da creare già questa divisione cosa facciamo? andiamo a dire un div class left e poi un div class right in maniera da avere già un destra e un sinistra logicamente all'interno del class left dovremo andare a creare appunto un titolo che metterò con h2 e appunto è questo titolo e poi un paragrafo che sarà appunto questo testo qui che logicamente adesso facciamo copia e incolla ok 1 qua magari faccio un bel vr così vado al capo anzi, ne faccio 2 meno vado al capo 2 volte e perfetto anzi, volendo possiamo rifare così qua chiudo il primo paragrafo perfetto dopodiché ne apro un altro sotto che avrà un po' di margine in maniera da avere appunto 1, 2 paragrafi perfetto ora vediamo se riesco a allinearle perfetto ora, 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 ora questa è qui la prima parte la seconda parte invece che è right ti consiglio di fare in questo modo ovvero right lo teniamo come contenitore principale mentre all'interno ne creiamo uno che lo chiameremo img indoor e chiamiamo appunto facciamo così img indoor 1 anche perché dopo faremo le img indoor 2 che è questa qui è buona cosa tenere le divise perché questa qui deve essere tonda questa qui invece può rimanere quadrata quindi molto probabilmente non ci interesserà neanche fare gli img indoor vabbè, la vedremo dopo cosa facciamo? allora qui dentro innanzitutto dobbiamo andare a dare dobbiamo andare a dare una grandezza quindi diciamo 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 che section 1 punto left ok innanzitutto dovrà avere una grandezza di abbiamo detto 50 e 50 quindi 50% e diamo anche un'altezza un'altezza che si potremmo essere 400 pixel poi dopo vediamo cosa esce mettiamo anche un background color giusto per curiosità dopo lo andiamo a togliere ma in questo momento almeno andiamo a evitenziare meglio questa parte poi andiamo a dire sempre section 1 write ok di essere con la stessa caratteristica magari lo facciamo ccc e all'interno però di section 1 write dovrò mettere questo id appunto e al quale dirò di essere magari poi do una grandezza fissa diciamo di essere non so 300 pixel per 300 pixel e in questo caso non voglio più un background color ma voglio un background image quindi con queste stesse caratteristiche quindi background image questa immagine qua ovviamente la dobbiamo salvarla copio incollo logicamente devo andare a devo andare a toglierla da questa mascheratura ok logicamente no funziona comunque forse perfetto la salviamo e quindi quella andiamo a richiamare con business ok vediamo cosa è successo se si vede qualcosa perfetto innanzitutto qualcosa inizia già a vedersi però dobbiamo andare a questo lo chiudo ok dobbiamo andare a dobbiamo andare appunto a creare questa divisione come facciamo innanzitutto dobbiamo andare a dire qui ok di essere a left e right di essere float left position relative ok sia a left che a right in maniera da averle appunto in maniera da avere destra e sinistra appunto allineate magari qua vado a dire ddd così capisco che c'è un colore diverso però in questo caso ne abbiamo sinistra e destra allineati perfetto perfetto perciò iniziamo a andare a dare queste due proprietà quindi position relative float left in maniera da fare allineare qui vado anche a cambiare il colore che dopo comunque andrò a togliere però almeno in questa prima fase possiamo vedere un attimino bene le distanze poi un'altra cosa che facciamo è quella di andare a centrare questa parte ora logicamente e dopo di che andremo appunto anche a rendere tonda come facciamo a centrare questa parte e anche questa parte poi vorrò a centrare perché comunque io qui ho un test e un titolo che dovranno essere centrate all'interno di left per fare tutto ciò dobbiamo utilizzare la regola flex la regola flex funziona in questo modo allora dobbiamo andare a dare questa caratteristica che è flex adesso vediamo al div che vogliamo non al div che vogliamo centrare attenzione quindi non a img door i perché io questo div non lo voglio centrare solo in orizzontale ma anche in verticale quindi se io lo volessi centrare solo in orizzontale potrei dire text align vediamo se la trovo text align center no neanche però potrei dire a questo div di essere margin 0 auto ok però non potrei centrarlo in altezza o meglio potrei farlo ma dovrei andare a dire margin top e andare a trovare un'altezza tipo 50 e 50 si si può fare però teniamo presente che in questo caso i miei div non sono in altezza auto bensì sono in altezza diciamo costrutta ma se io in questo caso avessi voluto togliere l'altezza del contenitore principale cosa che adesso comunque non faremo per andare a dire che l'altezza del div è alta come il contenuto a quel punto diventava un po' un problema però torniamo a questo nostro esempio cosa faccio? utilizzo la regola flex in maniera da vedere anche questa e vado ad assegnare la regola flex che si identifica con queste io adesso creo una classe appunto flex per identificarla ma la identifichiamo con queste regole quindi display flex align item center justify content center quindi scrivi esattamente questa regola e andiamo a darla al div esterni quindi in questo caso write così facendo senza far nulla ora torniamo appunto alla situazione vecchia che era questa senza far nulla ricaricando la pagina lui sarà in centro in quanto appunto avrà la regola flex quindi queste tre regoline che mi vanno a centrare il mio div ora un'altra regola che dobbiamo dare è quella del border radius anche qui la regola principale è border radius e vado appunto a dare un'angolatura adeguata però ti consiglio di andare appunto a cercare border radius cross browser perché io adesso sto utilizzando google chrome e funziona ma molto spesso con ad esempio mozilla piuttosto che explorer questa regola non funziona perciò ti consiglio di andare su questo bellissimo sito che si chiama border radius .com qua abbiamo un radius di 200 e copiamo incolliamo oltre la regola border radius che è quella che abbiamo già qui anche queste due regoline che vanno praticamente a assegnare il border radius anche ad altri browser che utilizzano dei web kit quindi delle regoline leggermente diverse vado praticamente a dare questa regola proprio il mio divindore tac bene faccio un pochino più ordinato in qualche modo vediamo se faccio intanto no vabbè ok più o meno si capisce potete fare un po' di pulizia però vabbè sono un po' disordinato oggi ok ricarichiamo e infatti eccola qua perfetta un'altra cosa che possiamo fare è quello di andare appunto ovviamente adesso qui a centrare questa parte lo facciamo come? lo facciamo creando un div interno quindi facciamo 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 un div chiamato left interno ok io per comodità lo chiamerò left i e a questa regola appunto left i che vado sempre a mettere qua sotto così teniamo più o meno ordinato vado a dire padding non so 50 pixel vediamo se lo script è giusto left i ok adesso è giusto 50 pixel le vado appunto a dare magari un po' più diciamo padding 30 così facendo vado a dare appunto un pochino più di agio di aria un'altra cosa che possiamo fare ovviamente è quello di andare a dare il font giusto quindi lato sans serif proprio come l'h1 anche all'h2 quindi possiamo dire facciamo così facciamo un copio in colla l'h1 così l'h2 uguale magari a posto di essere font size 40 facciamo 30 e colore nero quindi 1 1 1 ricarichiamo sì però aspetta c'è qualcosa che non torna perché io qua ho messo anche un ecco l'absolute non deve esserci neanche il margin ne lasciamo solo queste regole e anche width va via anche questo va via e il resto penso che possa restare perfetto ottimo io logicamente anche i paragrafi i paragrafi vado a dare solamente qui questo e dopodiché o dopodiché font width cosa abbiamo selezionato vediamo non mi ricordo più il 300 ok il 300 e il 700 quindi qua vado a segnare il 300 che dovrebbe essere quello un pochino più fine vediamo se funziona voilà perfetto ottimo ci piace perfetto magari qui possiamo farlo un pochino più alto possiamo dire a posto di 400 facciamo 500 un'altra cosa che possiamo dire è a posto di mettere questo padding possiamo dire anche qui cancello vediamo se la regola del flex funziona anche qua dovrebbe funzionare quindi dovrebbe centrarmi ok me l'ha centrato però quindi me l'ha centrato verticalmente però è buona cosa lasciare il padding sopra e sotto metto 0 destra e sinistra metto 30 quindi basta che compiro il primo valore come 0 e il secondo lascio 30 il primo valore va a identificare sopra e sotto il secondo a destra e sinistra logicamente altro metodo per fare questo avrei potuto dire 0 30 0 30 perché questo identifica sopra questo destra questo sotto questo sinistra in maniera da avere appunto questi angoli questi angoli appunto con un po' di ampiezza quindi volendo poter dire 50 questo poter dire 100 quello altro facciamo 50 così abbiamo un pochino più di aria ok la prima sezione quindi l'abbiamo fatta logicamente possiamo andare anche a ingrandire un pochino questo div a questo punto portandolo anche a 400 sì perfetto e logicamente andiamo poi anche a togliere il colore quindi da qui e da qui ok e magari anche dal main così che inizia ad avere un pochino più di respiro quindi andiamo a fare questa operazione 400 400 tolgo il colore tolgo il colore e lo tolgo anche al main perfetto e voilà prima sezione realizzata proseguiamo con la sezione 2 allora la sezione 2 la facciamo praticamente utilizzando lo stesso la stessa metodologia quindi copiamo la sezione 1 ok e la mettiamo in sezione 2 quindi cioè cancelliamo la sezione 2 che abbiamo fatto prima almeno facciamo le cose già belle che ordinate e andiamo appunto a salvare la section 2 così facendo adesso dovremmo avere la stessa identica copia no perché non me l'ho preso perché 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 aspetta section 1 section 2 ok forse ora esatto perfetto logicamente il main mi sembra che aveva una grandezza 800 l'andiamo a spostare in auto ok così da andare appunto a mantenere entrambi ah però aspetta logicamente andiamo di section 2 ok qui 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 da section 2 è andato qualcosa no vediamo mettere ancora di là section 1 section 2 allora facciamo una bella cosa allora innanzitutto è forse meglio pulire quindi creiamo una classe che chiamiamo clr ok o clear come preferisci alla quale assegniamo questa regola che è clear boff questa classe la andiamo praticamente a mettere all'interno di un elemento che va a dividere la section 1 dalla section 2 e ora ti spiego il perché la ricarichiamo oh e infatti adesso qualcosa forse succede ok dopo 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 section left right e qua la mg1 la faccio diventare mg2 ok ora vediamo qui se funziona 1 e 2 magari andiamo a mettere appunto all'interno della 2 allora 1 ah ok non funziona per questo motivo possiamo lasciare anche 1 dopo andiamo a modificare l'immagine non funziona perché logicamente io qui sono andato ad assegnare l'immagine a tutti questi elementi però ovviamente che derivano da section 1 quindi copiamo e impolliamo tutti questi elementi ok e andiamo a dire le stesse cose mettendo a posto di section 1 e section 2 perfetto così facendo ora forse molto probabilmente eccolo qua abbiamo la nostra struttura giusta main a questo punto possiamo dire di essere auto ok e può contenere appunto la section 1 e la section 2 però attenzione questo div clear deve essere deve essere messo anche all'interno all'interno di section 1 dopo il div right perché perché dopo perché ogni volta che ci sono due div come in questo caso il left e il right che hanno ti ricordo la regola flex ok vedi che left e right hanno la regola flex questa qui alla fine diciamo dopo right deve esserci display clear display clear buff perché perché altrimenti vedi che passando su questi due livelli posso selezionarli mentre però se vado su section 1 dovrei vedere tutti questi due selezionati ma non li ho ok cosa che neanche con section 2 ho se però perché vuol dire che non riesce diciamo l'html in questo caso di section 1 a capire qual è la terza esatta se però io vado a mettere un clear a seguito di left e right che flottano all'interno di section 1 ora quando li caricherò come per magia section 1 avrò un'altezza e se ora vado a fare la stessa cosa che section 1 main vedrai che andrà praticamente a posizionarsi all'altezza esatta insomma quando ci sono due livelli cioè due div due elementi che vanno a utilizzare la regola float che sia left o right quindi che vanno a disporse l'uno di fianco all'altro è sempre buona cosa a seguito dell'ultimo elemento quindi questo qui che è il right mettere la regola CLR un div con la classe clear quindi CLR alla quale ovviamente devono essere assegnate queste proprietà quindi questa proprietà in realtà clear buff salviamo ricarichiamo e ovviamente esatto adesso dentro di main mettiamo auto e come per magia va a prendere esattamente l'altezza automatica dei div che sono contenuti all'interno perciò andiamo su main e mettiamo 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 height 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 non ho ancora capito come si chiama auto ecco perfetto perfetto ora logicamente queste due devono essere invertite perciò perciò anche se uno si chiama left e l'altro si chiama right posso comunque prendere left lascio un po' di spazio e lo posso mettere a seguito di right così da avere perlomeno prima l'immagine ok e poi dopo il testo vediamo se funziona ok perfetto e un'altra cosa che dobbiamo fare è ovviamente andare a mettere l'immagine in questo caso al 100% perciò salviamo l'immagine quindi la selezioniamo e la salviamo la chiamiamo questa cosa l'abbiamo chiamata business la prima la seconda chiamiamo business 2 giusto perché ci piace la fantasia ora però dobbiamo fare un'altra cosa questa nostra immagine la voglio assegnare non a questo contenitore interno ma ci piace e vorremmo assegnarla a right direttamente quindi cosa facciamo andiamo a togliere questo qua interno che non ci serve più a niente magari qui per renderlo un attimino più carino lo mettiamo in linea perfetto e andiamo a dare a dare a dare questa appunto queste proprietà non più all'immagine indoor ma andiamo a togliere la grandezza e la assegniamo a questo qua che è il right quindi il right avrà oltre le sue grandezze già stabilite anche il background che sarà il business 2 tutto il resto dovremmo andare bene togliamo questa che è il bordo quello tondo che non ci interessa e voilà abbiamo la nostra immagine proprio come è fatto all'interno del nostro progetto grafico bene 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 ora passiamo all'ultima parte questa qui della parte diciamo in fondo di footer quindi campioniamo il colore andiamo a selezionare il colore esatto e lo andiamo a mettere a footer ok perfetto poi lasciamo un pochino di spazio come abbiamo fatto anche qua dicendo appunto footer di avere un margin top di 15 o anche 10 perfetto e dopo di che andiamo appunto a riempire il contenuto di questo footer anche qui abbiamo fatto una divisione che non è 50 a 50 ma molto probabilmente a 40 a 60 quindi cosa facciamo andiamo all'interno di footer e andiamo praticamente a creare anche in questo caso due div uno lo chiameremo indovino un po' footer class footer left perfetto e l'altro lo chiameremo footer right right perfetto queste due div andiamo appunto ad aggiungerle all'interno dello style e diciamo footer left devi essere largo il 40% e alto non so quanto abbiamo fatto a footer 200 quindi facciamo così footer lo mettiamo auto e qua lo mettiamo 200 così diamo una sola volta l'altezza ovviamente potevamo mettere 200 anche in footer però avremmo dovuto sempre cambiare due valori qualora volessimo fare più o meno grande il footer perfetto poi facciamo invece il footer right della rimanenza che è 60 una cosa che dobbiamo fare in questo caso è dire position relative float float left perfetto perfetto una cosa che dobbiamo fare anche qui copiamo l'elemento clear e lo mettiamo a seguito ok così da dirle una situazione pulita poi 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 all'interno anche qui vogliamo centrare due elementi quindi cosa facciamo mettiamo in left e e un right e ora potremmo accedere a cosa appunto a cosa servono e vediamo da sé lista prendendo ok spezziamolo ok footer left e footer e footer right perfetto funziona ora se io vado non vado a mettere queste due lib facciamo una prova con uno io vado a scrivere appunto all'interno di un paragrafo 3401921277 e qua facciamo anche di qua e qua vado a mettere la mia email mettiocciolaedoardo rinaldi.com all'interno di un anzi facciamo così all'interno di una A ok dato così almeno lo colleghiamo e facciamo anche il collegamento che è mail to e gli rimetto l'indirizzo email così uno quando clicca potrà già inviarmi un email e in questo caso anche qui ha quindi un link href tel così quando uno clicca praticamente partirà la chiamata così facendo dovremo avere appunto di default abbiamo un numero in alto a sinistra se però dopo ovviamente li andiamo a stilizzare li andiamo a mettere di bianchi senza righe né niente se però noi andassimo invece a fare anche qui dei div interni quindi li chiamo left i e right i per magari dai andiamo anche a capo così si capisce un attimino meglio ok qua è giusto a te 17 17 18 18 19 20 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 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 32 32 33 35 35 36 36 36 natura io dico no, non è, colore fff che è bianco e font side, c'è un bel 40, ci piace, va bene sì, 35. Logicamente queste proprietà dovranno essere assegnate a tutte le A contenute in footer, perciò vado all'interno dello style e dico footer A, così che almeno io queste regole adesso potrei dirle a quasi tutte le A perché non dovremmo avere altre all'interno del documento, però qualora noi avessimo delle A ad esempio all'interno del menu, queste A non vogliamo che abbiano queste caratteristiche, perciò io queste caratteristiche le assegno solo alle A, quindi ai link che sono contenuti in footer, quando vado a scrivere A dopo il nome del div contenitore vuol dire che io sto assegnando queste regole solamente agli elementi contenuti in un contenitore precedente che ovviamente è footer. Ora quindi se salvo e ricarico, entrambi hanno queste proprietà. Ultimissima cosa, vogliamo mettere questa barretta, andiamo qui, andiamo a darla non al footer, sì dove posso andare a darla, footer left, border right, 5 pixel, solid, fff, ora logicamente devo, 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 devo andare in realtà a rimpicciolire un pochino la parte di destra, ok, in maniera appunto da lasciare un pochino di margine e non andare appunto a rompere diciamo, cioè dato che questo qui comunque ha uno spessore che magari posso anche fare in percentuale, vediamo se me lo tiene, un pixel, no non me lo prendo, vabbè, niente, stiamo appunto di 4 pixel, 3 pixel, così siamo sicuri di avere margine e logicamente possiamo anche andare a abbassarci un pochino, sì, vediamo se me lo fa fare, tramite, in realtà per fare una cosa giusta bisogna fare in un altro modo, facciamo così, rifacciamolo, allora, andiamo, andiamo a dare un altro contenitore, perché qui è una cavolata ma bisogna andare a, diciamo, lavorare come se fosse una matriosca, perciò footer i lo tengo all'interno, ok, ma io qui però voglio andare a fare, anzi teniamo il footer i, che è quello al quale assegnerò il mio bordo, all'interno di footer i vado a mettere un altro, scusami, sì, di footer left i, vado a mettere un altro di, che è footer left i e ancora i, e ora vediamo il perché, e invece a footer i vado a mettere left e flex, così facendo io cosa vado a fare? Ovviamente questo footer left i dovrà avere la stessa altezza di footer left, quindi dovrà essere, in questo caso è il 100%, perché è il 100% di footer left e l'altezza di 200 pixel, in questo caso avendola già dentro che posso mettere l'auto. Dopodiché, così facendo, io posso andare a dire a, di che adesso funziona, a footer left i di avere un border right di 5 pixel solid bianco, e così facendo io non devo neanche andare a dire a footer right di rimpicciolirsi, in quanto il bordo non è dato a footer left, che confina direttamente con footer right, ma l'ho dato a un footer left i, che è all'interno, perciò il bordo che è assegnato rimarrà comunque all'interno del contenitore, che in questo caso è footer left. E dove in questo caso potremo anche andare ad assegnare la regola margin top 30 pixel, così da ottenere appunto questo effetto di staccatura. L'unica cosa è che, per tenere allineati, dovremo andare a dire non a footer right i, ma a footer right la stessa cosa, quindi margin top 30 pixel, così facendo abbiamo entrambi i due elementi allineati. Quindi andiamo lì ad assegnare, in maniera da delineare di definire queste due regole, quindi una e due. Ricarichiamo e voilà. Direi che siamo arrivati, in grosso modo, a realizzare esattamente il template grafico, andiamo qua, che abbiamo appunto realizzato su misura. Quindi direi che anche per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lascia un bel like per supportare il canale, per supportare tutto il tempo che dedico con piacere ovviamente al canale, quindi per farlo crescere ulteriormente. Fammi sapere se ti è piaciuto, così da poter creare anche altri video su questa linea e magari proseguire anche nella creazione delle altre pagine interne, sempre ovviamente su misura. Io ti ringrazio e ci vediamo ovviamente come sempre al prossimo video.